Se il parelto, che non la meravigliela, che non la meravigliosi, sia parte di un testo di ormai grafico, non le persone che se la meravigliosi, diventiamo suoi destinati. E tutti sapranno che siete decirci. Comprendiamo proprio da questo che l'identità cristiana si coglie a partire dal fatto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.